Ola! Eccomi qua! Mi stavo aspettando. Ora vogliamo il sesso. Come voglio dire, il sesso, il sesso si fa in una posizione strana, però non ve la ricordo. Ah, come finanzarsi con una ragazza? Facissimo. Basta approfittare di regalare dei fiori, oppure di fare un disegno con i cuori, eccetera, eccetera. Per conquistarla, eh? E quando è fatto questo, lei dice, Ammi, ammi, ma sempre così le donne. Ma non sempre così le donne. Perché? Ma lo sapete perché? No? Io lo so perché. Perché così, così, dicono, dicono che si vogliono finanzare con te. Poi, dicono, ragazzi, facciamo sesso e poi facciamo tutte le cose che vogliono fare le donne. Porche! Ecco, come io ho. Ciao!